Professore, l'Università degli Studi di Siena non è nuova a questo tipo di attività didattica, un vero e proprio lavoro sul campo per i vostri studenti? Sì, noi cerchiamo sempre di abbinare alle spiegazioni teoriche una serie di attività di campagna in cui gli studenti si possano misurare e arrivare in fondo, avere anche la percezione del lavoro come si svolge praticamente e finalizzarlo. Infatti abbiamo colto questa occasione, questa che per noi è come una palestra, in fondo produrremo un report che è tutto simile a un lavoro professionale. Quindi in effetti sia per quanto riguarda la parte pratica, per quanto riguarda la parte teorica, a termini di questo corso abbiamo degli studenti e anche dei professionisti. Grazie a tutti!